Domani alle 3 ho la pratica della patente e se vengo promosso domani sfoggerò la mia patente bella e buona quindi con la mia patente cerco di non prendere più multe e di non prendere più punti me la voglio tenere almeno stretta per due o tre anni Solo pratica e documento, il corona Fabrizio